Quali sono le vostre attività qui a Misano? Buongiorno Carlo, allora benvenuti al Truck Race di Misano per questa edizione 2018 dove sono in presenza del T-Robot, la nostra mascotte Renault Trucks che richiama la robustezza dei nostri veicoli edizione durante la quale tutti i driver italiani possono provare due veicoli durante una prova con il T480 e T520, tutti i due motori 13 litri e dove esponiamo il nostro veicolo brand 2018, il T-Red qua presente dietro di me. Come lo sapete ogni anno Renault Trucks presenta al mercato italiano il suo veicolo brand e siamo fieri di poterlo presentare durante questa edizione a Misano. Vi aspettiamo numerosi, benvenuti a Misano, l'Hospitality Renault Trucks vi aspetta, a presto. Ecco hai parlato di mercato italiano, cosa fate nel mercato italiano esattamente? Allora sul mercato italiano ovviamente Renault Trucks si sta muovendo, non siamo solo presenti a Misano, come lo sapete è partito l'Italian Tour Renault Trucks che è iniziato due settimane fa, questo weekend siamo presenti a Milano, a Pero esattamente presso la nostra concessionaria CVR. L'Italian Renault Trucks Tour prevede 18 tappei su tutto il territorio dal nord al sud, finiremo in Sicilia a novembre e vi aspettiamo numerosi su tutte le nostre concessionarie per provare tutta la gamma Renault Trucks. Grazie e auguri per il robot naturalmente. Grazie Carlo, guarda che bello! Grazie a tutti!